sono in un paese il nome è raccogliano italiano ore ovvie più o meno in flomeno e sono sul bordo sulla sponda del fiume vipaco vipava a due passi da marna ecco il campanile laggiù in fondo e qui c'è una diga che al solito si faceva per portare una rilevazione dell'acqua a un mulino in cui le pale sono ancora visibili l'ex mulino ora è adibito a camere da affittare un angolo del oriziano molto suggestivo e poco conosciuto